Musica Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. Inizia domani la maturità per oltre mezzo milione di studenti e studentesse italiani di cui 1264 sono reatini. Alle 8.30 di domani, mercoledì 22 giugno, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi spingerà il bottone per inviare le sette tracce ministeriali per la prova d'italiano. La seconda prova, in programma giovedì, avrà per oggetto le materie di indirizzo e non sarà ministeriale. Le tracce infatti verranno scelte dalle commissioni e saranno diverse da scuola a scuola. Da lunedì prossimo poi si parte con l'orale che si aprirà con l'analisi di un materiale scelto dalla commissione e proseguirà anche con domande di educazione civica e con la presentazione delle esperienze di PCTO, di fatto l'alternanza scuola-lavoro. Le mascherine non sono obbligatorie per l'esame ma sono raccomandate. E stasera il tradizionale appuntamento con la consueta notte prima degli esami. Molti giovani che si ritroveranno sotto scuola per festeggiare tutti insieme, traccanti, abbracci e tanta emozione. Non si arresta la risalita della curva epidemiologica del Covid nel Reatino. 134 sono i nuovi positivi e 54, cioè meno della metà, i guariti. Il totale va a 828 persone positive in tutto il territorio. Stesso trend anche in città dove si sono registrati 53 casi contro i 18 negativizzati. Anche nel resto d'Italia la curva non accenna a scendere. Del resto già la scorsa settimana il sottosegretario della salute Pierpaolo Sileri aveva preannunciato una nuova ondata estiva di casi. Secondo gli esperti la causa è riscontrabile nella diffusione della nuova variante di Omicron. Bollino arancione giovedì per il caldo a Rieti lo annuncia il Ministero della Salute. Temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare, assenza di ventilazione. Ecco cosa fa scattare l'allerta nelle città sentinella selezionate dal Ministero. Condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e soprattutto dei soggetti vulnerabili come anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza. Il meteo su Rieti prevede per domani, mercoledì, cielo sereno e termometro tra 15 e 34 gradi. Si replica giovedì quando ci sarà il bollino arancione con l'aumento delle minime a 19 gradi e appunto le massime intorno a 34-35 gradi. Giornalisti per un giorno sono i ragazzi di due classi di prima e seconda media dell'Istituto Minervini Sisti di Rieti che questa mattina accompagnati dai loro docenti hanno visitato la redazione di Rieti Life, gli uffici, la newsroom e gli studi televisivi. Una lezione per scoprire il mondo del giornalismo con prove pratiche ben riuscite nella conduzione di telegiornale e programmi sportivi di calcio e basket. Una giornata emozionante per i piccoli studenti e per tutte le giornaliste e i giornalisti della nostra redazione. La nostra testata è aperta ad ospitare le scuole ed è aperta a lezioni su informazione e comunicazione. Mettetevi ovviamente in contatto con rietilife.com La pagina sportiva, l'atletica Rieti scalpita nel weekend. Ci sono i campionati italiani assoluti. Si parte venerdì, si chiude domenica e c'è una pioggia di medaglie olimpiche sul Guido Baldi per il fine settimana. Tuttavia Marcel Jacobs, pur iscritto, tiene la riserva dopo l'infortunio che sta condizionando le ultime settimane. Vedremo se sarà presente sui 100 metri del Guido Baldi. Di certo ci sarà l'oro di Tokyo nell'alto Gianmarco Tamberi e con lui in pedana anche l'allievo della studentesca Mattia Furlani, reduce dai titoli allievi dell'ultimo weekend e che con Tamberi condivide la passione per il basket, oltre che un'amicizia più che social. Nell'elenco dei partecipanti figurano anche gli sprinter azzurri Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, di fatto con Marcel Jacobs, la 4% oro olimpico. Domani la presentazione in comune con Roberta Bruni, Stefania Strumillo, Simone Falloni e Mattia Furlani oltre ai vertici della studentesca, mentre è già aperta su Ticket One la vendita dei biglietti. È la vigilia della gara promozione per la Real Sebastiani. Se domani, mercoledì, vince ad Agrigento va in serie a due gara alle 20.30. Saranno presenti anche una ventina di tifosi amaranto celesti. La società ha messo a disposizione un maxischermo gratis al centro sportivo Gudini di Molino della Salce e ci sono postazioni tv al Coriandolo di Viale Fassini per dare la possibilità al tifo reatino di assistere alla partita. Ce la giocheremo fino all'ultimo secondo per restituire una gioia, una soddisfazione alla nostra gente, ha detto il tecnico Alex Finelli. Intanto, patrono Roberto Pietropaoli, alla vigilia del match, ha dichiarato a Basket Life che se andrò in serie a due farò questo campionato, altrimenti sarà B, affermando di fatto di non essere intenzionato a comprare titoli per il salto di categoria. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale che torna domani sempre alle 20.45. Nel frattempo rimanete aggiornati su rietilife.com e su tutti i siti del gruppo, nonché sui social Facebook e Instagram, sempre aggiornati. e domattina in edicola e nei consueti punti di distribuzione cercate Rietilife Free Press, il nostro quotidiano gratuito. Per questa sera è davvero tutto, appuntamento a domani. Buona serata. Grazie.